Lo scrittore francese Gustave Flaubert lo definì il Giardino dell'Eden, un tripudio di colori e profumi accoglie come ogni anno i visitatori del Giardino Botanico dell'Isola Madre. Chi cerca una giornata in relax facendo una gita tra le isole Borromee non può certamente mancare questa visita. Un parco all'inglese che offre viali ombreggiati dove poter passeggiare e splendide fioriture capaci di lasciare i turisti senza parole. Sono molti quelli che non si lasciano scappare l'occasione per scattare fotografie ai fiori più particolari per cercare di immortalare la bellezza in uno scatto. Tra le rare piante e i fiori esotici di questo giardino che circonda il Palazzo Borromeo vivono in completa libertà pappagalli, fagiani e pavoni creando uno scenario davvero suggestivo. Il tutto è gestito dalle sapienti mani del capo dei giardinieri Gianfranco Giustina e dalla decina di giardinieri che collaborano alla manutenzione del giardino. Quest'anno le temperature particolarmente alte hanno aiutato la fioritura dei fiori tropicali. L'isola ha di per sé un ambiente molto speciale, molto particolare e questa impronta esotica che lo distingue, che distingue questo giardino dagli altri giardini fa sì che questi fiori si vedano raramente in altri posti. Vediamo le alamande, le bougainvillee, gli hibiscus e tanti fiori che difficilmente si vedono in altri posti. Quest'anno il caldo ha favorito questi fiori tropicali e subtropicali. Tra le specificità di questo giardino, come ovvio che sia, c'è quella di trovarsi su un'isola. Ciò rende il lavoro di manutenzione molto più difficile rispetto alla norma, così come ci spiega Gianfranco Giustina. Le difficoltà sono tantissime dal punto di vista tecnico in sé, i trasporti, lavorare su un'isola, siamo isolati. Quindi qualsiasi trasporto è un problema su quest'isola. E poi ci sono dei problemi legati proprio al giardino, problemi di conservazione, problemi di introduzione di nuove essenze, problemi di difficoltà di far crescere certe piante.